Ora benvenuto a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Grazie di cuore per essere presenti in questo spazio virtuale della campagna Euro for Peace. Grazie a voi per avermi coinvolto. Riccardo, ho appena visto sull'home page del vostro sito l'appello a fermare l'aggressione e proteggere i civili ucraini. Ecco, cosa sta facendo Amnesty International e qual è la vostra posizione all'interno del conflitto? Il conflitto rappresenta una violazione enorme della Carta delle Nazioni Unite, il crimine di aggressione, che è uno dei più gravi previsti dal diritto internazionale e ne è pienamente responsabile la Russia. Stiamo ponendo l'accento sulla necessità di proteggere i civili da attacchi indiscriminati e illegali, come purtroppo ce ne sono stati a decine in queste prime settimane. Stiamo sollecitando gli stati limitrofi, che fanno quasi tutti parte dell'Unione Europea, ad accogliere senza discriminazioni, in maniera ordinata, nel rispetto dei diritti e della dignità delle persone che fuggono dall'Ucraina, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, come le donne e le ragazze che rischiano di vedere negati i loro diritti alla salute sessuale e riproduttiva in una circostanza così grave. Stiamo chiedendo alle autorità, tanto della Russia quanto dell'Ucraina, di astenersi da violazioni del diritto internazionale e umanitario, che regola la condotta di guerra, sebbene sia paradossale trovare delle regole in guerra, ma queste ci sono e vanno rispettate. Contemporaneamente stiamo tenendo d'occhio tutto ciò che accade all'ombra della guerra, perché è uno scenario tipico che conosciamo bene, quando l'attenzione del mondo si concentra su una crisi, gli altri hanno via libera nel mondo per compiere le peggiori atrocità. Questa è una prova, non l'unica, ma quella forse più grave, le 81 impiccagioni eseguite in una sola giornata, domenica 13 marzo in Arabia Saudita. Qual è il ruolo che dovrebbe avere l'Europa all'interno di questa crisi? La sensazione è che l'Europa abbia scelto un solo ruolo, almeno principale, che è quello di fornire armi all'Ucraina. E' vero, ci sono anche le sanzioni, ci sono altre prese di posizione, sull'invio dalle armi all'Ucraina la si può pensare in mille modi, da una prospettiva integralmente pacifista, che non è quella di Amnesty International, ma che gode di un enorme rispetto, se non altro perché sono persone, gruppi, società civile con cui facciamo delle campagne insieme, e quindi non possono essere messi in un angolo, in quella sorta di espressione un po' riguardosa del ne-ne. Io credo che qui il punto sia con-con, con la popolazione ucraina sotto le bombe, con i dissidenti russi che vengono arrestati a migliaia perché protestano contro la guerra. Questo è il con-con. Quello che è mancato, credo, in queste settimane sia stata un'azione che, capisco, è tipica della società civile, quella di proteggere, quella di essere scorta, non violenta, non armata quantomeno, e di creare dei meccanismi di prevenzione, ad esempio proprio andando fisicamente nei luoghi di combattimento, interporsi, convocare riunioni del Consiglio d'Europa, convocare riunioni dell'Assemblea Generale dell'ONU, a Kiev, per esempio. Si è scelta una strada che è diversa, quella di non partecipare al conflitto, ma dare armi alla parte aggredita. Su questo c'è una posizione comune dell'Unione Europea del 2008 che dice molto chiaramente che prima di inviare armi a uno Stato terzo bisogna fare due valutazioni. Se queste armi diminueranno il rischio di violazione dei diritti umani, o lo aumenteranno. In secondo luogo accertarsi che non finiscano in mani sbagliate. Io non vorrei vedere questa scena di un missile Stinger fornito dall'Italia e dall'Ucraina che abbatte un carro armato lince fornito dall'Italia e dalla Russia, perché la realtà è che sembra che siamo capaci soltanto a fare questo. E aggiungo che se c'è qualcuno che non vuole la pace, che vuole che questa guerra continui, non è il cosiddetto Nenne, è l'industria delle armi, che sta facendo profitti sulla pelle delle donne, degli uomini, dei bambini dell'Ucraina. Rispetto a chi sta aggredendo in questo momento, che è il governo russo, cosa state facendo per favorire l'accertamento delle responsabilità sul piano giudiziario? Abbiamo due team che lavorano in remoto, il primo è che acquisisce e analizza immagini fatte sul terreno, dai testimoni oculari, ma appresi anche dal satellite, e attraverso processi di geolocalizzazione conferma che quell'immagine si riferisce a quel luogo, a quel giorno, a quell'ora. Il secondo team analizza le immagini validate e sulla base di quello che ne viene delle immagini, siano crateri, siano caratteristiche di un obiettivo colpito, siano le caratteristiche di resti di munizioni trovate sul terreno, stabilisce di che tipo di munizioni si sia trattato, risale al vettore, risale al lanciatore, e in questo modo possiamo definire quelli che sono dei crimini di guerra. Ne abbiamo riscontrati diverse decine compiuti dalle forze armate russe, individuando esattamente la munizione, da dove è partita, il modello, il tipo, il produttore. Questo ha un obiettivo ben preciso, che non è, come dire, il collezionismo delle prove, è mettere a disposizione di chi indagherà sui crimini di guerra commessi in Ucraina delle prove inconfutabili di crimini di guerra, perché quello che Amnesty International vuole che non succeda è che quando questa guerra maledetta e terribile finirà, non inizi un tempo successivo, cioè il tempo dell'impunità, ovvero della mancanza di accertamento giudiziario delle responsabilità per i crimini di guerra che saranno stati commessi e che indubitabilmente sono stati commessi nelle prime tre settimane. Questo per un motivo molto semplice, che abbiamo visto altrove. Penso ai vari conflitti tra Israele e Hamas nella striscia di Gaza. Un conflitto segue l'altro perché i responsabili del conflitto precedente non sono stati puniti e rimangono al loro opposto. Questo non deve accadere. Chiarissimo. Grazie, grazie per questo lavoro fondamentale che state facendo. Una domanda più personale, come cittadino, come individuo, che effetto ti fa essere arrivati così vicini alla possibilità di un conflitto globale? È un'eventualità che io rifiuto razionalmente, della quale ho paura naturalmente, perché è quello che abbiamo visto in quest'ultimo mese, direi, è un piccolo chicco di neve che è stato lasciato rotolare fino a quando è diventata una valanga. Le valanghe non le riporti indietro, non le fai tornare un chicco di neve, devi neutralizzarle, devi scioglierle. Abbiamo visto delle cose che sembravano improbabili diventare probabili e poi diventare realtà. E non dimentico che in un'Europa nella quale si dice che non accadeva la Seconda Guerra Mondiale, noi abbiamo avuto negli ultimi trent'anni tre capitali assediate e bombardate. Sarajevo nel 92, Belgrado nel 99, Chieve nel 22. Questo vuol dire che politicamente l'Europa non è un soggetto in grado di proporre valori di pace. Il problema è nostro anche, come essere un continente che produce cultura e politica di pace, anziché produrre e vendere armi. Le persone che vogliono partecipare, cosa potrebbero fare di concreto? Informarsi sui profili social di Amnesty International, sul sito amnesty.it naturalmente, sui canali Facebook, Twitter, Instagram, perché avere informazioni su quanto accade dal punto di vista dei diritti umani credo sia fondamentale. È già una prima forma di attivismo. Puoi firmare gli appelli sul sito amnesty.it, prendere parte alle manifestazioni alle quali Amnesty International partecipa in questo periodo in varie città d'Italia, essere vigili e sperare veramente che quella valanga di neve nata da un piccolo chicco di neve venga sciolta. Grazie Riccardo e buon lavoro a tutti voi. Grazie, grazie mille. Grazie a tutti.